Siete tutti pronti per fare un po' una festa stasera? Perché voi dovete sapere che specialmente per voi, per un anno a Perna io ho provato di imparare un po' l'italiano. Spero che voi capite un po'. Allora, ladies and gentlemen, alla mandolina, Boris the Spider. Allora, ladies and gentlemen. 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 Allora, ladies and gentlemen.